Lorenzo, prima della pausa di Natale, all'ultima partita prima della sosta, hai detto chissà se al ritorno in campo, c'è questo derby con la San Benetese, mi piacerebbe tanto segnare. Ce l'hai fatta, però a questo punto viene da dire meglio quando segna il Bonolis. Sì, purtroppo è un gol che ha servito a poco, perché avrei preferito non segnare e portare a casa via i tre punti. Sì, purtroppo è andata così e martedì c'è subito una gara importante e ci dobbiamo rifare martedì subito e pensare alla gara prossima. Ci siamo un po' abbassati, loro hanno preso un po' più iniziativa e il pareggio ci ha un po' tagliato le gambe, perché poi ci siamo abbassati, è stato un po' quello lì che ci ha un po' ammazzato, perché se non avessimo subito quel gol, forse anche difendendoci in maniera più importante dietro, però il gol non l'avremmo preso. Però è andata così. Se vogliamo, l'amarezza può essere mitigata dal fatto che i martedì si tornano subito in campo, questa forse è una delle note positive di questa sera. Infatti è l'unica cosa che ci dobbiamo rifare subito martedì, abbiamo la possibilità di rifarci dopo due giorni ed è quello che conta, ormai la partita è passata e dobbiamo pensare a quello che verrà. Abbiamo preso due golle in otto minuti, mi pare, oggi, è un aspetto su cui dobbiamo lavorarci. In alcune partite serve anche buttarla via in tribuna e far passare del tempo. Ci manca qualcosina sotto quel punto di vista, però dobbiamo pensare solo alla gara di martedì. Come ho detto, la partita è passata e andiamo avanti. Sì, ma anche le prime mezz'ora del secondo tempo non è che abbiamo fatto male. È ovvio che le occasioni loro ne hanno create poche, ma sono stati bravi a pareggiarla, come ti ho detto, e poi a sfruttare il gol del 2-1. Però abbiamo fatto un'ottima gara, un'ottima partita a mio avviso e dobbiamo ripartire da qui.